Mi socio, mi socio, mi socio. Ha 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 ha. Che tipo di problema? Ti ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto. Bene. Dopo che ha letto la lettera. Oh. E cosa ha scoperto? Ne vuole una fetta? Marta. Se qualcun altro scopre questa storia... Siamo tutto io con Vargas tranquillo. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare. Scialla. Ciao. Siamo a un posto un po' più appartato. Sì. Che è brutto da dire così, però... Diciamo... Bene, qui è tutto tranquillo. Ok, allora, cosa abbiamo? Oh, merda. Ehi. Posso? Stai attento, ok? Legno con intarsi di oro e argento. E' ben fatto. Dentro il cavo. Perché un uomo di Everi dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso. Tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù. Questo non è Gesù. È vero, manca la corona di spine ed è legato alla croce. Ma se non è Gesù, allora... Leggi l'escrizione. Digna factis rechipimus. Riceviamo... Riceviamo... Riceviamo il giusto per le nostre azioni. Mi stupisci. Sono trofio cattolico e hai suoi vantaggi. Sam è il più grande. Che c'è? Oh, hai capito? Esiste una cattedrale di Sandism in Scozia. L'ultimo avvistamento di Everi fu in Scozia. Non può essere una coincidenza. No. Tutto sto casino per andare in Scozia. E... Certo, avevo dei dubbi su quei due. Ciao. Cerchiamo Vargas. Dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene cheat, ragazzi. Dobbiamo andarcene cheat. 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 Vabbè, dai. Sì, sì, sì. Ti rastardi. Dai, dai, sì. È bella come tante nelle costre. Mi piace questa mossa. Ahia. Ovviamente posso schivare i cazzotti. Bam. 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 Ahiai. Ahia. Bam. Bam. No, no, no. Mi dissocio. Ahiai, che male. È malissimo, ragazzi. Malissimo. Ahia. Ok, è morto. Ma non riconosco i miei dei suoi. Cosa facciamo? Ok. Mazzati. Mamma mia, arcaiojonsina proprio. Ma chi è questo? Bam. Si riproducono questi. Ancora. Mi è piaciuta. Alarmar guarito. Bam. 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 Ma quale sono? Braccio destro. Oh, con calma, eh. Bam. Ahia. Si, va bene, però. Che cavolo. Vai, teen. Bam, gringo. No, 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 no. Bam. Ma penso che... Però sono i più grandi. Dobbbero fare MMA questi per la resistenza che hanno. Cioè, fan paura. No, 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 no. Oh, io ho. Ai, 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 ai. Ecco, buona. Che po', dai. Aia. No, 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 no. Non mi avrai. No, vabbè. Non si può sopravvivere. Attenzione. Il ciccione sta guadagnando dei punti, comunque, eh. Il ciccione sta guadagnando dei punti. Il ciccione sta guadagnando dei punti. Certo. Certo. Sono d'accordo. Che sei sto? Eh? Dame. Contrabbandi della merce? Carca. Cagliate. Che credi di essere? Lievolo a succesa. Nathan. Povero nato, bro, dai. Colpo di scena, ragazzi. Oh, non ho trovato niente. Sarai in un'altra torre. Beh? Ehi, ho un'educazione cattolica. E ho sempre una. Non rito. Ehi, 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 senti. Non vale nulla, ok? Ti sembro un idiota? Ok, vuoi rinegoziare? Bene, smettila di fare il teppista troglodita. Metti via la pistola. Grazie. Siamo disposti a darti il 10%. Il 50%. Il grosso del lavoro è nostro, 20. E non lo troverai senza di noi. 25. Alla pari. 25. Mi sembra equo. Me ne farò una ragione. Sì, certo. Per 100 milioni si dividono meglio in quattro. Allora siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. Se dovessimo rincontrarci... Ah, che male. Mamma mia, che male. Ah, è finito. Il ciccio bombo è morto. Rip ciccio bombo. Ti ha dato di volta il cervello. Vuoi forse scoprirlo? Che stiamo facendo? Ci atteniamo al piano. Questa era parte del piano. Voi seguitemi. Dai. Dai. Vabbè, se è la mia situazione... Non c'è molto da dire. Bisogna scappare, ecco. Vai, vai, via, via. Via, via. Via, via. Corri in alta, un po' più veloce magari. La finestra, Nathan. La finestra. Dai, dai, dai. Ma salta! Ok. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Vai. Mi piacciono i giochi quelli dove c'è tutta questa tensione di scappare, proprio. Ai, 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 ai. Dai, 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 dai. Ci sono, ci sono. Ci sono. Stai tranquillo, vecchio. Fanculo, vai gli addosso. Ci vado io addosso, eh. Che fai? Cosa va questo? Andiamo, andiamo, andiamo. Non so, devo farti strada io? Cos'è sta roba? Triangolo. Vai, 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 Sam. Vai, Sam. Vai, Sam. Pronti via? Tu mi aiuti, però, vero? Hai capito questo qua prima di me? Non vale, eh? Ai, 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 ai. Oh, oh. State calmi, eh. No. Io santo, proprio io, eh. Beh, ovvio, eh. Ovvio, un classico. Ai, ai. Ok. Bravo, Sam. Vieni con noi. Vieni con noi, Sam. Bam. Sì, vabbè, ma questi che sono questi? Mi so, cioè. Bam. Bam. È la mossa del muro. Bam. È stata. Bam. Vai, le cogliones. Via. Eh, dov'è? Andiamo. Cosa devo fare? Ok, ok. Ok. Aviamo questo in avanti. Direi che, direi che può andar bene. Vai, vai. Andiamo, andiamo. Salve. Ma dove dobbiamo andare? Ti prego. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Mamma mia, bisogna morire io. Era finita, eh. Dove è andato? Vai, 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 vai. Dai, Sam. Dai, Sam. Tutti assieme, Sam. Dai, Sam. La manina, Sam. La manina, Sam. Forza. Dai, 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 andiamo. Andiamo via. Dai, andiamo. No. Benvenuto, Damn the Dog. Benvenuto. Aspetta, ma no. Benvenuto, Damn Dog. Al tempo giusto, proprio. Ma che c'è questo? No, è ancora lì sotto. No, è spacciato. No, non posso, non posso lasciarlo qui. Nate, tuo fratello è morto. Vieni con me o morirai anche tu. No, come ti parli? Sam. Oddio, no. No. No, ragazzi. Oddio. Ok, devo andarmene da qui. Eh, il bro è andato. Oddio, buono. Finita. C'è rimaniamo con sto coglione qua. Ma dove sto andando? Ah, è giusto qua. Il bro è andato. Ah. Che intro, ragazzi. Lunga 6 chilometri. Tanta roba. Comunque, Damn the Dog. Sarò in stream anche domani e giovedì. Che continuerò il gioco. Ovviamente lo ricarico su YouTube. Però, se stiamo qua in compagnia ci fa piacere, diciamo. Che intro. Che intro, ragazzi. Wow. Avevo già un po' visto alcune cose di Uncharted 4, ma purtroppo i capitoli precedenti... No. No. Dicono che siano belli anche i capitoli precedenti. Dimmi te se li hai provati oppure... Eh, immagino, ok. Neanche a te, ok. Sì, dai. Non so. Oh, magari in futuro possiamo provare anche a giocarli. A portarli qua in live. Magari. Quindici anni dopo. Quindici anni dopo.